Ma buonasera duellanti e benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a vedere le carte uscite in data odierna cioè il 7 giugno 1973 che cazzo sto dicendo? andiamo a vedere un po' i nuovi supporti c'è una carta che mi intriga come al solito io mi tengo sempre all'oscuro di tutte le carte che devono uscire robe varie quindi non so mai un cazzo di quel cazzo che deve uscire ed è tutta una sorpresa ed è una cosa abbastanza carina almeno che cazzo non lo so quella carta là com'è che si chiama? ma questa qua si può evocare con la trappola del porco dio quella lì quella che si gioca nel dinomorfia che tra l'altro il video oggi in teoria c'è scritto come inculare Rescue Ways vi farò vedere un duello bello a virgolette bello dove ho giocato appunto contro Rescue Ways questa che cazzo fa? questa carta Pierculo prima deve essere ah Pierculo se questa carta viene evocata specialmente non so se si può evocare boh poi andiamo a vedere allora Drago Bucone nooo bellissima sta carta veramente spettacolare di artwork non può essere sotto effetti le carte se uno più mosi non tremmeno di sotto effetti le carte oh forte bello questo che cazzo è? ah sono usciti anche i Fire King madonna di quella puttanona allora c'è da dire che in molti tipo fuoco in tutti quanti i meta di Yu-Gi-Oh! sono sempre stati una merdaccia tipo se ne è mai cagati nessuno fino in fondo da quando sono usciti i Snake Eyes da quando sono usciti i Rescue Ways porco di si sono andati tipo i mazzi più forti mazzi tipo fuoco cioè ma ammazzati manovra combinata ingranà porco di ho letto porca madonna avevo letto ingranaggio antico ho detto cosa? no figurati asso della saltatrice dei miei coglioni ma saltati le mie palle porco di ho re supremo cancello del cazzo questa che stracazzo è assaltatore chirurgico che palle sempre di quelle carte del cazzo ma Dio oh questa ha la delta fotonica questa carta è una carta ha la tua man di feno oltre i mostri ha detto per sempre un po' di grano oh forte cazzo minchia fai una lock clamorosa ma questa che cazzo re supremo che lo piacere culo madonna tutte carte che si possono evocare nel coso là nel mazzo Dino Morphe santuario del re del porco dio madonna beh alla fine come immaginava a noi non è che ci interessa molto a me non è che cazzo di gioco Fire King mazzo più forte comunque link è in descrizione se volete entrare nel gruppo Telegram ed essere fighi quanto una busta a estrazione gratis madonna con gli svino che cazzo dico qua i porco dio i sgomi in anima grazie cacconami grazie mille ma a me non è una SR dammi la figlia del cane del merda del tuo madre puta in tuo cazzo in tuo culo porco del dio porco dammi una UR madonna puttana oh vedi basta bestemmia basta bestemmiare ok quindi una UR pure da 15 grazie visto Konami come sei gentile origine galattica vediamo cosa troviamo in questo contenuto sfruttur deck mamma mia troviamo lo stregone galattico l'orbitale del merda insomma qui ti fai tutto quanto il fotonico con 1500 oggetti what a crap what a cool pure baratto ma che forte madonna che bello 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 ci facciamo il mazzo mazzo fotonico anale perfetto accessori vediamo che cazzo hanno messo ma vaffanculo porco dio vaffanculo oh speciale invece è il pacchetto che lo piglia milioni di gemme ti danno ti danno vabbè come al solito ti danno queste cose qua abbastanza oh porco dio non devo fare questo vabbè fa niente abbiamo visto le carte nuove ce ne fotte qualcosa molto probabilmente si magari in qualche nuovo video faremo vedere qualche nuova carta ma in questo caso oggi andiamo a vedere un replay così divertentissimo divertentissimo non so per chi cioè infatti come ho scritto sotto l'ho detto prima porco dio mi sono già dimenticato come inculare Rescue Ace beh c'è da dire che sono a rango oro ho tipo 4 account che porca madonna sono stati retrocessi nei ranghi più bassi mai porco dio rango principiante rango bronze per esempio in questo account ero addirittura il rango argento vabbè il rango argento che poi non è neanche solo che di avere due coglioni due coglioni per farsi porco dio tutte quelle partite per rancare veramente una palla clamorosa allora il tizio parte con Salvatas Gioasso che vabbè è diciamo uno degli startini del mazzo si va a prendere la carta magia continua che scusate era terreno che sinceramente non ho mai visto ma si gioca questo giocava pure nella lista del cazzo probabilmente però comunque era sempre partito in maniera abbastanza bastarda Blossom sempre presente mannaggia dio mannaggia dio è sempre presente con la carta di merda porca madonna emergenza nega Bloss cosa nega Maxi cosa cazzo ho appena detto salvataggio si tributa quello effetto di quello insomma era partito come devi partire beh magari non proprio in maniera proprio incredibile oppure si oppure si se c'è qualche rescue ace player che tra l'altro allora c'è da dire voi cosa ne pensate del rescue ace cioè secondo voi è un mazzo bello carino questa cosa che sono una specie di una specie di pompieri malati non lo so sembrano sembrano tipo delle carte ispirate ai pompieri che non sono neanche male visivamente parlando ma che schifo quindi non lo so però siccome il mazzo è talmente bastardo e si gioca insieme anche a snake mi dà fastidio porco dio non è giusto allora l'effetto di quello si va porca madonna a settare 4 direttamente dal deck bella bella la attiva l'effetto di quella può attivare subito una carta rischio che si è appena settata attiva la terreno la terreno cos'è che faceva rimetteva 5 e pesca 1 che oddio non è che mi sembra tutto sto granché finisce con 4 settate di cui 3 sappiamo cosa sono e noi peschiamo oh che bello quando Konami ogni tanto si redime e ti dà in mano porco dio le mani cioè le carte giuste per vincere ogni tanto dici oh ma che brava ma ogni tanto allora spolverino subito immediatamente quello attiva salvataggio si va a ribornare un porco dio emergenza che tra l'altro l'ha ripescata mi sa sto cane del merda si va a prendere si va a specialare quella si tributa quell'altra spolverino fa il suo dovere dopo che comunque ha calato 2 dal cimitero gratis ciao ciao meno 4 secco rai gechi uno dice vabbè ma c'è la mascherina che cosa può fare può fare la pollosa mannaggia Dio che non viene spaccata l'effetto delle carte ma noi ce ne sbattiamo i coglioni ma che bella la pollosa col nuovo artwork che ormai sono due mesi che è uscito ma vabbè niente rai gechi appunto non fa quello che deve fare anzi fa quello che attivo già dalla dualità qui uno può dire ma come mai hai preso blossom con in campo a pollosa perché il nostro amico il rex tem madonna de dio ci fa praticamente come si dice come porco dio si dice ci fa da antimeta e poi a pollosa diventa una carta praticamente inutile attivo subito la frenesia ho detto mica se è un'altra max scusate se è un'altra blossom dio porco ho perso meno male che non ce l'avevo cioè il porco basta eccolo qua una carta maestosa che non ha non ha l'animazione cioè questa carta porco dio porco dio non ha l'animazione cioè fighissima sta carta non mi hanno messo l'animazione attivo l'effetto del rex tem il pezzo di merda c'è la pollosa diventa inutile quindi posso scartare blossom per negare l'attivazione dell'effetto di questo bastardo tutto precisamente calcolon o calculon cosa questo attacca fortissimo effetto quella si rimuove dal cimitero evoca la bastarda che gli fa 500 danni mandando una dinomorfia a pizze di merda e la partita è bella che finisce l'effetto di quella si va per culo quella ma noi ce ne sbattiamo i coglioni quindi ritornano tutti quanti ai loro super cose naturali poi non ovviamente ma ci sta a pescare giustamente ma ci ha top deck tipo l'effetto di quella niente la partita è finita perso cioè quello mi spacca addirittura il rex tem ma il rex tem è talmente forte che ti va a ricalare quella che ti va a come si dice a risettare quel porco dio qui il tizio mi sa che tipo si arrende perché ha perso tipo la non ne poteva più molto probabilmente perché andavo a ricalare ancora un altro rex tem grazie all'effetto di quella lì mi andavo a risettare la trappola nella sua ciao ciao bello come inculare rescue ace giocando dinomorphe dinomorphe ammazzo fortissimo allora questo giocava questa lista che insomma già che giocava le super poli mi stai simpatico giocava una lista abbastanza strana cioè giocava pure addirittura i porco dio si struttura che vabbè ti fanno blossom su emergenza porco dio parti veramente bene qui c'è qualcosa che non va qui c'è qualcosa che chiaramente non va qui c'è qualcosa chiaramente oh la partita l'ho fatta ieri eh la bannet c'è già ehi ehi questo sta citando questo no oh ma no aspetta oh la partita l'ho fatta ieri la bannet c'era già porco dio ma che cazzo succede qua ma sulla stessa carta oh ma che cazzo oh ma ma questo è un cheater porco dio cioè cosa ma io copio il deck tipo non lo so boh fatemi sapere voi se è normale sta cosa ma non penso non penso proprio non penso proprio boh oh ma che cazzo niente vabbè il video finisce qua anzi cambierò il nome del titolo il titolo del nome dicendo oh ho beccato un cheater tipo uno che gioca a due carte che non le puoi trovo ma no aspetta ma eh ieri era già no ma ieri c'era già no la bannet quando è che l'hanno fatta 6 quando è che l'hanno fatta quando è che c'era quando è che è entrata in vigore la bannet porco dio dove è la bannet porca madonna oh dove è la bannet porco dio aggiornamento sulla bannet che era in vigore dal dal 7-6 2024 7-6 cioè quindi ah quindi da ieri dopo la montezione del giorno 6-7 le carte sposate nell'elenco prebite verranno ah no allora allora poi cioè ma scusi ma quella carta io è strano perché me la sono spaccata in un altro account e tipo l'altro strano forse è diventato cioè vabbè chi se ne frega dai allora il titolo rimane quello come inculare rescue ace vediamo le nuove carte Gesù Unca bella a tutti al prossimo video grazie a tutti